Avete mai pensato all'impatto di ciò che mangiamo sull'ambiente? Per rendere il nostro stile di vita più sostenibile, dobbiamo stare attenti anche al cibo che consumiamo, come la pizza. Lo studio Fieschi, in occasione dell'istituzione della giornata mondiale della pizza, nel 2017, ha calcolato emissioni di CO2 del cibo più amato in Italia e nel mondo. Secondo tale ricerca, la pizza margherita ha un'impronta di carbonio di circa 0,7 kg di CO2 equivalente. La pizza marinara, invece, emette circa 0,2 kg di CO2 equivalente. Ma come mai c'è tutta questa differenza? Per via della mozzarella, che contribuisce al 75% delle emissioni di CO2 della pizza, la marinara ne è priva e risulta quindi molto meno impattante. Tutte le pizze hanno un'emissione diversa tra loro, differenza dovuta al gusto o alla quantità di ingredienti. In conclusione, comunque, lo studio ha definito che la pizza è il piatto più sostenibile del mondo e possiamo mangiarla tranquilli. Buon appetito!